CACS, clausole di azione collettiva. È meglio non investire in titoli di Stato che presentano queste clausole? Parliamone! Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video, io sono Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente ed imprenditore. Oggi voglio parlarti delle clausole di azione collettiva. Le avrai sentite spesso se investi in titoli di Stato italiani. Voglio fare un po' di chiarezza su questa tematica e voglio darti anche la mia opinione, che è diversa da quello che senti in rete. Così avrai la possibilità di sentire diversi pareri da più campane e potrai farti la tua idea. Prima di commentare, senti ciò che ho da dire, guarda il video da qui fino alla fine, lascia un bel like se ti piace e poi magari commenti. Fammi quindi prima spiegare perché secondo me le CACS non sono così terribili come ti hanno detto. Quello che c'è di sicuro è che i titoli di Stato non sono realmente strumenti risk-free, quindi privi di rischio. E quello che c'è di sicuro inoltre è che gli investitori dovrebbero comunque conoscere le CACS. Ma i titoli di Stato è anche vero che non erano free risk già da prima, cioè anche prima dell'introduzione di queste clausole. Allora partiamo intanto da cosa sono queste CACS. Il termine, questa parola già di per sé non è bellissima, però è l'acronimo di clausole di azione collettiva. In sostanza queste clausole consentono all'emittente di trovare un accordo con il creditore, con i creditori, quindi con gli obbligazionisti, quelli in realtà di maggioranza. Con questo accordo l'emittente può andare a, ad esempio, allungare le scadenze di rimborso, questo si chiama in gergo rollover, può ritardare il pagamento delle cedole, può tagliare il valore nominale dei bond, questo è l'air cut, quindi tagliare il valore di rimborso, può rimborsarti di meno rispetto a quanto ti aveva detto prima, può tagliare le cedole, quindi può pagare cedole più basse rispetto a quelle che erano state messe, scelte in emissione, può cambiare la valuta di negoziazione o di denominazione, scusate, dei titoli, quindi si può cambiare la valuta di pagamento, può cambiare il luogo di pagamento, può modificare le condizioni sugli obblighi di pagamento dell'emittente e può andare ad imporre qualsiasi condizione degli obblighi di pagamento dell'emittente in relazione ai titoli, può anche modificare l'ordine di preferenza o della seniority di tali titoli. Queste clausole sono state inserite a partire dal primo gennaio 2013 in tutte le emissioni di debito, quindi di titoli governativi europei, con durata superiore ad un anno. Le CAX quindi non riguardano i BOT, i buoni ordinali del tesoro, sono strumenti con una durata inferiore ad un anno, ma le CAX non riguardano solo, qui magari le persone sbagliano, non riguardano solo titoli di debito italiani, non è così, si parla di titoli europei, questo è qualcosa che devi conoscere. Dal 2022 in Italia queste clausole sono state inserite in tutte le nuove emissioni di BTP. Tenete presente che le emissioni senza tale clausole sono destinate a scomparire nel tempo, comunque a ridursi notevolmente. Le CAX sui BTP ci sono quindi ormai da dieci anni, ma non su tutte le emissioni, perché ancora si trovano emissioni di BTP, o comunque BTP, senza queste clausole. BTP che sono stati emessi magari prima del 2013. L'introduzione di queste clausole si è resa obbligatoria ai sensi del trattato sul meccanismo europeo di stabilità e segue lo schema approvato dal Comitato Economico e Finanziario dell'Unione Europea. In sostanza si va a rispettare uno standard europeo, che vale per l'Europa, non solo per l'Italia. Qui c'è confusione. Vale per tutti gli stati europei. Non è quindi solo un fenomeno italiano, lo ripeto, non è quindi solo un fenomeno italiano, ma è anche europeo, e in realtà le CAX, magari questo non lo sapevi, esistevano nel contesto internazionale anche prima del 2013. Vediamo un esempio di una possibile applicazione di tali clausole. Prendiamo a riferimento questo strumento, un BTP con un valore di rimborso di 50.000€ alla scadenza, una scedola semestrale del 2,5% con scadenza 2030. Facciamo finta che questo titolo è soggetto alle clausole CAX e facciamo finta che si verifica un caso di emergenza, l'emittente trova un compromesso con i creditori di maggioranza, ottiene la maggioranza qualificata ed apporta modifiche a questo titolo. Vediamo cosa potrebbe succedere. è un esempio, che in altri casi è successo in giro per il mondo, quindi non è un esempio impossibile, più o meno è successo così. Allora, con l'applicazione di queste clausole il governo italiano, quindi l'emittente se vogliamo, potrebbe andare ad abbassare il valore di rimborso a scadenza, facciamo finta che da 50.000 passa a 37.500, quindi il creditore, chi è il detentore del titolo, ha una perdita di 12.500€. La cedola semestrale potrebbe essere abbassata dal 2,5 all'1,25 e la scadenza potrebbe essere allungata, quindi si potrebbe fare il rollover, quindi dal 2030 può passare ad esempio al 2040. La Grecia ad esempio ha fatto una cosa molto molto simile, ha allungato la scadenza e è andato a dare più titoli alle persone con diversi importi e ha abbassato il valore di rimborso, ha fatto air cut in sostanza del suo debito, ha fatto rollover. Andiamo a vedere cosa serve per approvare tali clausole. La proposta da parte dell'emittente, proposta che ci sarà ovviamente solo in caso di emergenza e di gravi danni, impossibilità o difficoltà estreme nel pagare, nel far fronte ai propri debiti, deve essere accettata da una maggioranza qualificata di creditori. Non è quindi una modifica unilaterale come ti vogliono far credere, non è che quindi l'emittente domani si sveglia e cambia tutto a suo piacimento, non è così. Serve che i creditori di maggioranza vadano ad approvare quello che propone l'emittente. E la modifica delle condizioni contrattuali in caso di emergenza, lo ripeto, può avvenire solo dietro una doppia approvazione. Qui vado veloce perché in realtà ci sarebbe più da dire, ci sono più sistemi, però in sostanza deve esserci l'approvazione da parte dei creditori di quel determinato titolo specifico dove si va ad apportare dei cambiamenti, qui ci deve essere la maggioranza qualificata nei detentori del bond in questione, quindi di quello strumento finanziario, deve esserci il 75% di voti favorevoli oppure una risoluzione scritta di almeno il 66% dei possessori di queste obbligazioni e poi deve esserci approvazione anche nell'assemblea relativa a tutti i titoli che sono soggetti alle modifiche contrattuali. Alcune nuove CACs prevedono un'unica votazione soltanto con gli obbligazionisti possessori dei titoli oggetto della ristrutturazione. Quindi è da sapere che le CACs sono clausole che tutelano i creditori, però tutelano i creditori di maggioranza perché serve la maggioranza qualificata, quindi il cittadino medio italiano che investe magari in BTP non è tutelato in realtà perché non può esprimere in sostanza il suo diritto di voto, deve sottostare tra virgolette alle decisioni prese dai maggiori detentori di tale strumento. Ora, come fare a capire se un determinato titolo ha la presenza di queste clausole oppure no? Allora, per quanto riguarda il mercato italiano è molto semplice. Si può andare, il metodo più semplice qual è? Si può andare in questo website, ci sono più metodi, però il metodo più semplice è che si può andare in questo website e si può capire facilmente che i titoli senza queste clausole sono i titoli che presentano l'asterisco come come vedi qui. Quindi questo esempio è senza le clausole CACs, anche questi sono senza le clausole CACs, quelli senza asterisco invece sono quelli che presentano le clausole. Altrimenti è necessario andare nel prospetto informativo di quello strumento finanziario e vedere se c'è una dicitura simile a emissione soggetta alle clausole di azione collettiva, oppure i titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva. Ora, se si vuole evitare di investire in strumenti che presentano queste clausole, però magari si vuole investire lo stesso in titoli governativi europei o titoli di Stato italiano, cosa si può fare? Si può ancora investire in sostanza in titoli emessi prima del 2013. Questi, ad ogni modo, sono alcuni titoli che non prevedono le CACs, per quanto riguarda titoli di Stato, quindi BTP, stiamo parlando in realtà di BTP, titoli di Stato italiani. Tutti questi non prevedono queste clausole. C'è anche un titolo italiano però emesso con una valuta diversa, quindi in dollari, dollari americani, che non presenta tali clausole ed è questo qui. Le CACs però sono positive o negative per l'investitore, nel senso tutelano l'investitore oppure oppure no. Banca d'Italia ha effettuato uno studio portato avanti da Alfredo Barduzzetti e Davide Dottori, nel quale sono stati esaminati i rendimenti dei titoli pubblici emessi sui mercati internazionali in presenza o meno dei CACs. Tale ricerca analizza i rendimenti mensili rilevati sul mercato secondario da marzo 2007 ad aprile 2011 di titoli pubblici denominati in dollari emessi da paesi con differente merito di credito sui principali mercati internazionali. I risultati di questa ricerca dimostrano che la presenza di tali clausole su questi determinati titoli riduce in misura statisticamente significativa i rendimenti dei titoli emessi da paesi con un rating di fascia media. Quindi è una componente positiva. Il mercato per questi titoli vede l'introduzione di queste clausole come qualcosa di positivo, dato che magari in caso di problemi c'è una risoluzione ordinata della difficoltà. Proprio per questo il rendimento scende, quindi minore rischio e il rendimento scende. Dallo studio emerge che non ci sono cambiamenti o cambiamenti significativi nei rendimenti per i titoli con le CACs emessi da emittenti con elevato merito di credito o con un merito di credito basso. L'assenza di effetti significativi per quanto riguarda variazioni nei rendimenti tra titoli che presentano CACs o meno per emittenti con elevato rating. Cosa vuol dire? Vuol dire che la probabilità in questo caso di default è troppo bassa e quindi i titoli che hanno e presentano queste clausole non fanno emergere un valore apprezzabile, quindi non abbassano il rendimento e non ne abbassano tanto quindi anche il rischio perché questi emittenti tra virgolette sono quasi a prova di default, quindi è inutile inserire queste clausole. Per i paesi con un rating creditizio più basso sembra che i timori di un uso opportunistico delle CACs compensino almeno in parte i benefici apportati dal fatto che ci sarà una ristrutturazione ordinata in caso di problemi. Ad ogni modo non è semplice la questione. Vi sono differenti scuole di pensiero. C'è chi, come si evince da questa ricerca, attribuisce un valore positivo alle CACs. Perché? Perché in caso di difficoltà appunto c'è un processo di ristrutturazione che opera in un quadro definito, quindi ci sono delle regole da seguire invece che fare un far west. Altri invece pensano che ci sia un rischio maggiore sui titoli con la presenza di tali clausole. Perché magari l'emittente in difficoltà in caso di emergenza agisce prima su questi titoli rispetto agli altri, magari lascia indenni gli altri. Se vi è un maggiore rischio però in finanza questo rischio deve essere pagato, quindi ci sarà un maggiore rendimento sui titoli che presentano queste clausole. Ad ogni modo la maggioranza qualificata che serve per poter realizzare le modifiche previste dalle CACs e la flessibilità anche da parte dell'emittente di selezionare la serie di titoli da ristrutturare, a mio avviso pareggia un po' le due visioni. Diamo un'occhiata ai rendimenti di titoli di Stato italiani con l'applicazione o meno di queste clausole. In realtà è più complesso di così però semplifichiamo al massimo e guardiamo il rendimento netto di questi titoli con scadenza più o meno simile. Allora su scadenza 2025 come puoi notare non c'è alcuna differenza o comunque è poca la differenza. Su scadenze invece 2029-2030 c'è un minimo già di differenza. I titoli con la presenza di tale clausole rendono di più perché magari il mercato le riconosce come più rischiosi. Su scadenza 2040 c'è differenza, anche qui c'è differenza e i titoli con CACs rendono di più. Quindi il mercato gli attribuisce un rischio maggiore, così sembra per questa analisi super semplificata, però ci paga anche di più. Cioè il rendimento è più alto, come è normale che sia se veramente c'è un rischio più alto. Abbiamo visto cosa sono le CACs, clausole di azione collettiva, abbiamo visto il loro funzionamento, abbiamo visto come fare per evitarle. Ancora è possibile evitare di investire in titoli che non presentano queste clausole. Tutti gli altri formatori o comunque tutti gli altri blogger o youtuber ti hanno detto che queste clausole sono terribili per te che magari investi in tali titoli e ti hanno detto che sono solo per l'Italia quando invece non è così. Però tieni presente che se vi è veramente un rischio maggiore, quindi se queste clausole sono qualcosa di negativo per te, il mercato ti deve per forza remunerare se siamo in presenza di un mercato efficiente. Quindi questo malus deve essere per forza scontato nel rendimento. Quindi se ti rifugi in titoli che non presentano queste clausole, ne paghi un po' sul rendimento. Prendi di meno come rendimento. Se ti vai a esporre in titoli con la presenza di tali clausole, come abbiamo visto nel caso di BTP, magari ci sarà più rischio, però il mercato ti remunera di più. Non si sfugge dal rischio rendimento, non si sfugge. La regola assoluta e universale. Le CAX inoltre è bene specificare che non si riferiscono solo ai titoli di Stato italiani, ma vale anche per i titoli di Stato europei. Questo magari, ripeto, non lo sapevi perché ho visto altri video dove viene data la colpa solo allo Stato italiano. Non è così, è una cosa europea. E magari è possibile che molti investitori abbiano già investito, a loro insaputa, in titoli internazionali con la presenza di CAX, anche prima del 2013. Tenete presente inoltre che l'applicazione di tali clausole farebbe perdere la credibilità dello Stato in questione. Se lo Stato si avvalesse infatti di tale clausole non farebbe altro che ammettere a tutti di essere in difficoltà e di essere in sostanza in default. Questo causerebbe una salita repentina degli interessi che tale Stato sarebbe chiamato a pagare sul proprio debito. Quindi se proprio lo faranno valere lo faranno valere solo esclusivamente in momenti di emergenza. Ed è difficile anche, quindi è difficile pensare che lasceranno indenni gli altri titoli. Se una barca affonda, in caso di emergenza, secondo te è meglio avere un piano ben definito, quindi delle regole, oppure è meglio non avere nessun piano? Capisco che è facile incorrere in populismo, soprattutto quando si parla dello Stato italiano e del debito pubblico italiano. Però rifletti su questo punto. Se una barca affonda, e è possibile che affondi, non dico di no, se una barca affonda è meglio avere un piano. Piano di emergenza è meglio avercelo. E tieni presente che anche prima dell'introduzione di queste clausole non è che era impossibile fare un haircut sul debito o fare un rollover sulla scadenza. È già successo in altri Stati. Non era impossibile. Quindi fai attenzione a credere che i titoli di Stato siano realmente risk-free, privi di rischio, e fai attenzione a credere che investire magari su titoli di Stato senza queste clausole ti mette in una condizione, diciamo, di sicurezza rispetto agli altri. Vi è rischio anche nei titoli senza cax. In Grecia, infatti, nel 2012, durante la crisi del debito greco, il Parlamento, il 23 febbraio 2012, ha approvato una legge che ha disciplinato l'introduzione retroattiva di queste clausole. Quindi, in caso di emergenza e di difficoltà, l'emittente può cambiare comunque le regole del gioco, può cambiare le carte in tavola. Non è che dal 2013 cambia tutto. Già, effettivamente, se vogliamo, era così. Cioè, rifletti, rifletti su questi punti. Voglio lasciarti questo con questo video. A mio avviso, le cax sono una sorta di tranquillante per il mercato, però difficilmente verranno messe in atto, soprattutto nel breve periodo. Se succederà, probabilmente saremo già in uno scenario, immagino, dove non esisteranno più titoli senza tali clausole. O anche, se dovesse succedere nel breve periodo, non credo che l'emittente andrà a modificare solo gli strumenti con queste clausole, lasciando indenni gli altri. Non credo proprio. Con questo è tutto, fammi sapere sotto nei commenti cosa ne pensi e noi ci vediamo al prossimo video.